Ciao io sono Tommaso, questo è il mio canale YouTube, questo è DaVinci Resolve e sono tutti i tutorial dedicati proprio a DaVinci Resolve e all'utilizzo. Oggi parliamo dell'Inspector, questo sconosciuto. Bene, passiamo direttamente alla timeline e alla pagina di DaVinci Resolve perché andiamo a vedere che cos'è questo Inspector. Allora innanzitutto dove si trova e a che cosa serve? L'Inspector è qua sulla destra, si attiva e si disattiva con questo pulsante che vedi qua in alto con scritto appunto Inspector e ti permette di fare una valangata di cose. Partiamo da quello che è la trasformazione dell'immagine, quindi la possibilità di zoomare, di spostare la posizione, di rotarlo, di ancorare i punti di fissaggio della clip, di dargli dei pitch e dei roll all'interno dell'immagine, di dargli dei flip o di flipparli anche verticalmente e questa è solo la parte diciamo iniziale del transform. Ma prendiamo una clip qualsiasi, questa qui per esempio, vogliamo avere una clip totale, calcolate che adesso sto facendo non un transform, non sto zoomando l'immagine realmente, la sto semplicemente avvicinando o allontanando con il mouse. Ma se volessi andare a ritagliarmi un pezzo di immagine perché questa immagine è troppo larga, potrei tramite lo zoom andare a fare una cosa del genere e l'immagine adesso è diventata piccola. Vedete che questa è la realtà dell'immagine e quindi io mi tengo questa immagine, magari posso anche dire preferisco questa parte qua perché voglio anche vedere la casa e la macchina e magari voglio vedere un po' più il campo, quindi mi abbasso con gli x e gli y della position e quindi qui ho creato praticamente la mia clip molto più stretta all'interno dell'immagine. C'è la possibilità di dargli della rotazione perché magari non è in bolla, possiamo andare a ruotarla, adesso ho esagerato magari così. Questo può accadere quando nel momento in cui abbiamo un'immagine che vogliamo enfatizzare tipo questa, vogliamo dargli una rotazione minima, non troppo e vogliamo avvicinarci, ecco qua che abbiamo questo cambiamento di inquadratura, da prima che era questa a ora che invece è questa. e quindi per la rotazione. Pitch e yo non li utilizzo praticamente mai perché sono questi, cioè è la possibilità di andare a spostare appunto sull'asse della picchiata e sull'asse della invece imbardata la nostra immagine. Può essere utile se stiamo lavorando magari con un'immagine che vogliamo andare ad inserire ad esempio, che ne so, su un altro contesto. Quindi sto inserendo il contesto sopra, vado a rimpicciolirla un po', la metto di nuovo dritta, la metto con un monitor solo così vediamo un po' meglio, ingrandisco un po', e vogliamo magari inserire in una situazione di yo di questo tipo qua perché vogliamo spostarlo lateralmente quindi andremo poi anche a spostarlo qui di lato perché vogliamo mettere, che ne so, qui delle scritte per dire quindi magari vogliamo mettere degli effetti, dei titoli, qualcosa tipo questi che scrollano stile titoli di coda però non da questa parte, da quell'altra quindi spostiamo Ah, tra l'altro anche sul testo c'è la possibilità di andare tramite i settaggi a spostarci quindi anche la nostra position eccoci qua abbiamo la possibilità di andare a creare i nostri titoli a scorrimento, a salire quindi questo potrebbe essere l'utilizzo per quanto riguarda il transform tutto quello che clicchiamo è, è inspectorabile diciamo c'è la possibilità di utilizzare l'inspector in tutto quello che tocchiamo questa è, poi possiamo anche ad esempio, rimanendo sempre sull'immagine, possiamo flipparla dall'altra parte possiamo flipparla verticalmente, insomma possiamo fare un sacco di cose togliamo, andiamo sullo smart reframe questo è un pulsante diciamo di intelligenza artificiale praticamente cioè che gestisce e analizza l'immagine e valuta qual è il reframe migliore per quel tipo di immagine io sinceramente non l'ho mai utilizzato però c'è e può essere utilizzato sia in automatico sia con punti di riferimento poi ci spostiamo sul cropping ah, tutte queste cose che sono all'interno dell'inspector se io le clicco e le riclicco vedete che si aprono quindi ci spostiamo sul cropping il cropping non è altro che il ritaglio laterale da una parte piuttosto che dall'altra piuttosto che su adesso in questo caso essendo l'immagine riframmata e anche un po' appunto sull'asse sull'asse IOW sull'asse dell'imbardata chiaramente il reframe me lo fa trasversale perché ragiona sull'immagine non sulla verticalità e sull'orizzontalità del dell'immagine diciamo di spondo ma sull'immagine stessa che è stata ruotata e spostata si può anche rendere più morbida nel senso che eccola qua se vogliamo andare ad ammorbidire la nostra i nostri bordi possiamo farlo tranquillamente e questa è la parte del cropping ci spostiamo sul dynamic zoom è molto interessante il dynamic zoom perché quando lo andiamo ad attivare ci permette adesso magari lo possiamo fare su un'altra immagine lo facciamo su un'immagine ferma questa immagine qua potrebbe essere dynamic zoom lo andiamo ad attivare innanzitutto e di default lui ci dà un dynamic zoom predefinito come faccio a vedere qual è il dynamic zoom? vedete che si allontana la camera fa un zoom out praticamente se invece gli scrivo di farlo swap lo mi farà uno zoom in eccolo qua ma come faccio a vedere quanto è zoomato e quanto non lo è semplicemente vado all'interno del mio viewer qua in basso a sinistra del mio viewer vado a cliccare dynamic zoom e vedo nella cornice verde la partenza e nella cornice rossa l'arrivo quindi se io per assurdo volessi modificarlo e andare direttamente sul primo piano cioè sul mezzo primo piano del ragazzo che sta lavorando la lavanda ecco che potrei fare una cosa del genere ok e lo stesso facendoci lo swap quindi richiudo il transform che mi dà solo noi aperto facendoci lo swap sarà il contrario vedete che mi dà il rosso fuori e il verde dentro adesso non più il verde e il rosso quindi da dentro da super zoomato mi andrà fuori e occhio perché se questo lo clicchiamo mi scompare non l'effetto mi scompare però la visualizzazione dei due rettangoli quindi diventa invisibile non il lavoro che abbiamo fatto ma invisibile il come abbiamo fatto lo spostamento mi raccomando ok questo è per quanto riguarda il dynamic zoom poi abbiamo il composite mode è praticamente la possibilità di andare ad unire due immagini torniamo su quella di prima che era azzeccata andiamo di nuovo su transform e gli diamo magari un zoom un po' più piccolo transform ok vedete che si era inizio dato con il dynamic zoom quindi la cosa che devo fare è o clicco su dynamic zoom così mi va via dynamic zoom e non mi crea più pensieri oppure semplicemente mi posso spostare sulla sezione transform posso farlo anche fisicamente qui non serve solo farlo qui cioè il mio transform lo posso trasformare da qua ma lo posso trasformare anche graficamente da qua anche storpiandolo così e posso fare la stessa cosa anche per il crop chiaramente quindi anche il crop potrò andare a chiuderlo piuttosto che aprirlo quindi torniamo però alla nostra composite mode il composite mode è praticamente come si compone come si compongono le due clip una sopra all'altra aggiungiamo vedete se aggiungo il mio composite mode semplicemente andrà ad aggiungere l'immagine superiore a quella inferiore quindi andrà a fare un composite se io mi avvicino vedete che ha uniformato unito alle due immagini e qui ce ne sono un sacco cioè basata anche sul colore quindi si basa sul colore per andare a fare il composite si basa sulla bruciatura del colore sulla sulla durezza del colore sulla scurezza in qualsiasi situazione andiamo tra l'altro con la possibilità di andare a gestire anche l'opacità di questo effetto ok poi normal speed change abbiamo la possibilità di cambiare la velocità e la direzione della clip cioè la nostra clip il nostro uomo ci guarda quindi il suo movimento è quello di guardare verso di noi se io faccio reverse semplicemente il nostro uomo da verso di noi guarderà da un'altra parte io non mi trovo particolarmente bene con l'inspector a fare questa cosa gli speed change li gestisco facendo comando r e aprendo praticamente questa sezione che è speed change in cui qui sotto posso decidere la velocità a cui portare la clip e eventualmente se voglio fare il reverse segment se voglio fare delle speed ramp e compagnia quindi preferisco gestirlo da qua magari ci faccio un video dedicato alla parte delle speed ramp e alla parte degli speed change però preferisco farlo da qua piuttosto che da qua però c'è la possibilità di farlo anche qui 27% possiamo andare a portarlo anche di nuovo al 100% magari e quindi avremo una velocità normale di lui che si gira normalmente ovviamente perde tutta la sua bellezza che aveva a 26 frame al secondo 26 frame al secondo 27 quelli che erano erano i frame che ho deciso di fare perché oggi ho girato tutte le clip tutti i video a 100 frame al secondo proprio per potermi permettere di fare queste slow motion interessanti bon speed change mostrata stabilizzazione troviamo qualcosa che non è stabilizzato questa qua potrebbe essere un po' meno stabilizzata la faccio diventare al 100% così magari l'allungo anche che magari esatto non è proprio stabile stabile anche se comunque siamo a dei livelli tutto girato col gimbal quindi non ho un'immagine senza il gimbal qua a portata di mano e c'è la possibilità di gestire la stabilizzazione in prospettiva in similarità in traslazione quindi utilizzando uno o più assi in prospettiva appunto la traslazione gestirà anche l'asse di spostamento orizzontale in questo caso ci stiamo spostando in tutti gli assi mi verrebbe da dire che la più performante potrebbe essere translation però poi si provano tutte e si vede qual è la migliore perché molte andranno a storpiare io tendenzialmente le provo un po' e vedo come vanno e valuto quale delle varie clip più mi aggrada delle varie stabilizzazioni più mi aggrada e vedete che ha croppato un po' ed è più stabile decisamente e si fanno un po' di test si provano tutte e si vede come va se volessimo magari non su questa ma su ecco questa qua questa immagine qua se volessimo fare finta che fosse a cavalletto semplicemente andiamo a dirgli camera zoom camera lock e andiamo a dargli la stabilizzazione ovviamente mi taglia adesso non è l'esempio perfetto perché mi taglierà la testa e la persona però sapete che ha bloccato completamente ecco si vedono le onde le ondine qua del difetto della stabilizzazione si vede chiaramente che anche il braccio si storpia tutto la persona si storpia tutta allora a quel punto i tentativi possono essere di gestire la similarità io la farei in perspective probabilmente vediamo come viene in similarity ecco similarity vedi già non storpia più l'immagine della persona quindi potrebbe essere già più interessante come come tipologia di stabilizzazione queste sono le scelte comunque le tre opzioni che si possono avere si può anche scegliere quanto croppare nella stabilizzazione quindi quanto andare a farla pesante quanto andare a farla invasiva io consiglio di rimanere con i parametri base almeno all'inizio quando non si è preso un po' di dimestichezza lens correction allora lens correction ho un qualcosa con la gopro qua non ho nulla con la gopro vediamo però questa potrebbe essere una distorsione andiamo a togliere i transform quindi vado a cliccare qui vi ricordate che avevo cambiato tutta la clip vado a cliccare questo pulsante qua per ritornare alla normalità questa clip è del drone quindi potrebbe esserci della distorsione vediamo la lente del drone non è mai esatto non è mai perfetta l'ha analizzato da sola ma evidentemente non è corretta qui io posso andare a gestire la distorsione della lente in virtù di come reputo che sia corretto il campo io in questo caso ho un punto di riferimento che è questa linea del campo quindi cercherò di rendere più diciamo corretto possibile la geometria del campo adesso non abbiamo un orizzonte piatto magari come potrebbe essere al mare al mare potrebbe essere molto comodo perché se c'è un po' di distorsione questa correzione della lente vi aiuta tantissimo poi il time scaling c'è la possibilità di fare delle slow motion con un optical flow anche nel momento in cui non abbiamo delle clip particolarmente prestanti prendo una clip che non sia così prestante una clip a 25 fps prendiamo questa la sposto direttamente in timeline così alla brutta e voglio prendere questa parte qua da qua a qua la rallento poi se volete appunto vedere tutta la il workflow per il rallentamento facciamo anche un tutorial sul rallentamento e parto ma magari la portiamo anche a 25 esageriamo per vedere cosa succede 27 e viene a scatti se utilizzo dei time process differenti dal project settings ad esempio un optical flow o un frame blend frame blend ancora meglio otterrò questa cosa qua vedete che è molto meno è molto meno scattosa di prima perché praticamente il programma DaVinci Resolve crea dell'interpolazione delle immagini e permette di rendere molto più fluidi i movimenti chiaramente è molto cioè l'ho esagerato io adesso cioè un 25 frame al secondo l'ho portato al 27% di velocità quindi a un quarto 25 12 a 7 frame praticamente l'ho portato senza l'optical flow si vedono proprio gli scatti no il frame blending credo sia solo disponibile sulla versione studio ma l'optical flow come avete visto fa il suo sporco lavoro forse anche meglio in questo caso perché è molto finto questo effetto qui niente quindi questo è il anche la parte dell'inspector direi che abbiamo chiacchierato anche di questo argomento spero che sia stato utile che sia stato esaustivo almeno per iniziare a capire di che cosa si tratta e come funziona questa sezione molto importante di DaVinci Resolve nella parte di Edit sappiate che ci sono tantissimi altri tutorial e che ne usciranno tanti altri di tutte le tipologie da appunto Edit a Fusion Color Deliver Media Cut e via dicendo a me non resta che salutarvi ricordatevi di iscrivervi al canale di cliccare la campanellina se non vi siete ancora iscritti anche di mettere dei mi piace così poi potrete rimanere aggiornati per tutti i vari video che usciranno e il martedì sera ci si vede live quasi tutti i martedì direi a meno che non ci siano degli impegni imprevisti o delle problematiche di connessione qui in mezzo ai monti dove possiamo chiacchierare reciprocamente condividere esperienze ma soprattutto farmi domande e cercherò di darvi le risposte non mi resta che salutarvi dicevo e ci vediamo con il prossimo video buon editing ciao